Allora, Presidente Massimo Donati, alla quinta giornata di ritorno più 11 sulla seconda classifica, se gliel'avrebbero detto a inizio stagione avrebbe fatto carte farze? Indubbiamente la squadra sta girando, l'ambiente tutto sta girando, è chiaro che siamo in serie di solo ed esclusivamente dove c'è la matematica. Oggi la matematica non c'è per cui bisogna tenere i piedi per terra e continuare così come stiamo facendo nelle ultime domeniche, credo che siamo all'ottava vittoria consecutiva. Per cui credo che la strada sia ben avviata, ma ancora non abbiamo raggiunto nulla. Ecco, oggi è una partita praticamente chiusa e poi c'è stato questo 3-2, all'ultimo minuto Baglini si involava verso la porta e è stato bravo Barsotti a chiuderlo proprio alla battuta del tiro. Questo ha valore ancora di più che le partite si chiudono al novantesimo, dopo noi sul 3-0 pensavamo molto probabilmente di averla vinta e aver messo il Fiano in cascina, invece l'Oliveto ha avuto un'ottima reazione, ci ha portato sul 3-2 e ci ha fatto penare fino al novantacinquesimo. Quindi fin tanto che non abbiamo messo la matematica e fin tanto che le partite finiscono al novantacinquesimo bisogna tenere sempre i piedi per terra e oggi ne è la dimostrazione. Ecco, un campo, questo quadro comunale che quando piove e non c'è solo vento diventa una palude, è un po' un punto a sfavore per la squadra? Sì, è un dubbio che il campo in questo periodo ha dei problemini perché piove tutti i giorni, oggi fortunatamente è il secondo giorno che non piove, ma ancora oggi era bagnato. Chiaro che dovremmo intervenire a fine stagione magari con l'amministrazione comunale e vedere cosa c'è da fare perché oggi il campo presenta dei problemini e dobbiamo risolversi per l'anno nuovo. Ecco, il progetto stadio? Il progetto stadio, dobbiamo sentire l'amministrazione, noi attendiamo fiduciosi il discorso Quality Life, ancora oggi non c'è assolutamente nulla, però è chiaro che in questo senso può meglio rispondere il sindaco. Grazie. Grazie.